Un sito mostrerà i livelli di rischio tsunami nel Mediterraneo. A lanciarlo è il CAT, Centro Allerta Tsunami, dell'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini in relazione alle probabilità che eventi simili si verifichino anche nel mare nostrum e fornire strumenti che consentano di minimizzare l'impatto di tali eventi.Nel nuovo sito del CAT INGV sono presenti molte informazioni utili sia per capire meglio cos'è e cosa c'è all'origine di uno tsunami, ma anche l'evoluzione del rischio in Italia e nel resto del mondo. Come riportato dall'INGV nella presentazione del nuovo portale. Insieme alla protezione civile all'ISPRA, il Centro Allerta Tsunami rappresenta uno dei tre elementi centrali del Siam, il Sistema di Allertamento Nazionale per i Maremoti di Origine Sismica. Presente nella homepage una mappa riportante tutti i terremoti che hanno fatto scattare il monitoraggio da parte del Sistema di Allertamento Maremoti, attivo a partire dal 1 gennaio 2017, presentati in tre livelli di allerta, la verde information, meno grave e di semplice segnalazione, l'arancione advisory, di livello intermedio, la rossa watch, ad alto rischio. Attualmente non vengono ancora indicate le allerte in tempo reale, che vengono invece smistate, affinché provveda alle varie segnalazioni a livello locale e nazionale, al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. Informazioni condivise anche con i paesi dell'area euro-mediterranea sottoscrittori dei servizi e del CAT, tra i quali figurano tra gli altri Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Grecia, Regno Unito, Malta ed Egitto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.